ciao buongiorno a tutti sono Giuseppe Mauro agente immobiliare oggi voglio presentare questo immobile che ho appena acquisito siamo al centro di Casoria in via San Paolo della precisione un appartamento al quarto piano con un ottimo affaccio su piazza di quattro stanze d'accessorio seguitevi per ulteriori informazioni per un appuntamento non esitate nel contattarmi Giuseppe Mauro consulente immobiliare devi vendere casa non affidarti al caso